Ciao, sono Jennifer e dopo un percorso di dimagrimento ho deciso di venire a Istanbul perché me l'avevano tutti consigliato come chirurgia estetica e io ho scelto uno dei dottori migliori della zona e mi sono trovata benissimo. Da quando ho deciso di intraprendere questo percorso insieme a lui mi ha seguito dall'inizio, da quando ero a Milano con una videoconferenza dove mi ha spiegato tutto l'intervento per bene, fino poi al mio arrivo qua che in aeroporto mi sono venuti a prendere, mi hanno portato in ospedale a fare esami, il giorno dell'operazione, tutto infermieri, anestesisti, dottore, tutti mi hanno accolto con il sorriso e mi hanno fatto sentire a casa, poi l'operazione è andata tutto bene, il post operativo, post operazione ancora meglio perché il dottore, anche se poi sono ritornata a Milano, ci siamo sentiti lo stesso e se avevo qualche difficoltà, qualche dubbio, qualche perplessità, lui mi ha sempre aiutato, quindi io lo consiglio a tutti, interventi a Istanbul, ci sono i migliori dottori anche dell'Italia.